Lamberto Bottini, articolo 1. Quale sinistra per l'Umbria e per Perugia? Innanzitutto ridare un orizzonte alla sinistra, alla rappresentanza degli interessi dei ceti più popolari, vista anche la crisi che li ha colpiti in maniera dura in questi anni. C'è bisogno di tornare a ragionare di progetto, c'è bisogno di definire programmi adeguati e negli interessi più generali per le nostre comunità, c'è bisogno di ridare senza i concetti di uguaglianza e di solidarietà, c'è bisogno di ridare importanza generale al mondo del lavoro. Grazie.